Se hai ricevuto un errore riguardo a Windows Update dell'ultimo aggiornamento rilasciato su Windows 11, il KB5043076, io ho un'installazione riuscita perché è andato. Ovviamente è possibile farla automaticamente oppure manualmente. Quindi in questo caso iniziamo prima ad andare su risoluzioni problemi, impostazione risoluzioni problemi per fare così una diagnosi, una scansione riguardo a che problema ha Windows Update sul nostro computer, altri strumenti di risoluzione dei problemi e adesso andiamo su Windows Update e facciamo esegui. Rilevamento dei problemi e adesso ci dirà che problema abbiamo su Windows Update. Se ti esce un triangolino giallo, quello è l'errore, se invece ti esce un segno tipo fatto di colore verde, vuol dire che non ha nessun problema e quindi possiamo scaricare l'aggiornamento senza problemi. E ora non ci resta che aspettare. Verifica la presenza di problemi di Windows Update, quindi in Windows Update è rilevato qualche problema. Il problema è stato risolto, facciamo sì, chiudi strumento di risoluzione dei problemi, se metti su no, continua e continua a fare gli analisi finché non trova quello più specifico, chiudi strumento di risoluzione dei problemi. E ora passiamo direttamente a, entriamo così nella cartella di Windows, vai su questo PC, disco locale C, scendi fino a giù fino a trovare così Windows, scendi fino a giù fino a trovare la cartella che si chiama Software Distribution. Su download elimina così questa cartella, download e fai continuo e ripristiniamo il tutto, svuota cestino e facciamo sì. Chiudiamo un attimo qua, ora andiamo direttamente sul nostro, puoi farlo direttamente sul CMD, quindi il prompt dei comandi oppure il PowerShell. Ovviamente proverò a usare prima il PowerShell, quindi faccio esegui come amministratore. In descrizione ti ho lasciato così dei comandi da inserire sul PowerShell ed eccolo qua. Quindi come ho detto puoi farlo direttamente sul PowerShell oppure il CMD. Proviamo prima il PowerShell, facciamo controllo e poi facciamo invio. Stiamo per essere arrestato. Questo Windows potrebbe essere arrestato. Facciamo S per continuare. Hanno reimpostato così tutti i servizi. In fase di avvi, come puoi vedere, hanno arrestato così il servizio. Adesso si stanno avviando di nuovo. Avvio del servizio Windows Update è riuscito. Quindi in questo caso adesso riprova ad aggiornare, tipo vai su verifica disponibilità e aggiornamenti per vedere se devi fare qualche aggiornamento su Windows Update. Però prima di fare questo devi riavviare il computer. Quindi una volta fatto puoi direttamente scrivere Exit. Concluso qua, puoi scaricarlo tu stesso manualmente. Quindi andiamo direttamente su Google Chrome. Oppure poi ti puoi scaricare di nuovo Windows 11. Quindi facendo rimanere tutte queste applicazioni, tutte le due cose, ma riscaricando da capo Windows 11. Senza formattare nulla. Così facendo avrai già l'ultimo aggiornamento installato sul computer. Oppure c'è il catalogo di Microsoft Update. Quindi come funziona questo catalogo? Chiudiamo un attimo qua e andiamo su Windows Update. Cronologia degli aggiornamenti. Ed eccolo qua. Copri così questo codice e lo metti qua. E fai invio. Vai a prendere così la versione 23H2. Dipende direttamente da questo aggiornamento. 23H2 per 64. 23H2 per 64. Per scaricarlo devi cliccare su Download. Mi raccomando il file deve finire come .mso. Se no, non puoi installare nulla. Ti escono solamente dei file. Scarichi e installi l'aggiornamento. E ovviamente sicuramente mi dirà installazione non riuscita perché io ho già l'aggiornamento. Quindi l'installazione di questa versione è già installata sul tuo computer. Quindi è inutile che vado ad installare un aggiornamento che non mi fa installare perché già lo tengo. Quindi installazione riuscita del 15 di settembre. Se non vuoi farlo automaticamente e fare tutto quel casino sul CMD o il PowerShell puoi direttamente scaricare l'aggiornamento manualmente. Quindi per altri problemi ancora puoi guardare anche gli altri video che ho messo nella playlist in alto a destra riguardo agli aggiornamenti di Windows che non funzionano. Oppure puoi commentare sotto al video. E noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao.